Il titolo dell'opera è Katakyuchi Tengajaya Mura, vendetta al Tengajaya, comune mette detto Tengajaya Mura, onsewa mono, scritto per i burattini da Naka Kamesuke I nel tardo XVIII secolo e rivisitato da Naka Kamesuke II. E' stato un famoso cavallo di battaglia di Otani Tomaemon IV. I fratelli Ayase, Yori e Genjiro hanno una doppia missione, recuperare un tesoro perduto, un dipinto, affidato loro dal proprio signore e vendicare la morte del padre per mano del loro compagno samurai, Toma Saburemon. Sono assistiti dalla moglie di Iori, Somenoi, e dalla finanziata di Genjiro, Azue, e dai loro due servitori, i fratelli Adachi Motuemon e Adachi Yasuke. L'intero gruppo si reca a Osaka alla ricerca di Toma e del tesoro. L'opera descrive la depravazione di un servo che ha avuto la sventura di perdere il favore del suo padrone. La sua precedente realtà diventa odio e le sue buone qualità mutano in furfanteria e violenza. Atto 1 I due concludono che deve trattarsi di lui e lo attaccano. Egli li sconfigge e i fratelli capiscono di aver commesso un errore, quindi si scusano e si ritirano nel tempio. Un altro samurai, vestito in modo simile, e che in effetti è proprio Tosa, compare con il suo servo Udesuke. Mentre stanno discutendo i loro progetti, arriva Motuemon. Udesuke fa cadere accidentalmente una lettera che Motuemon raccoglie e dalla quale capisce l'identità di Udesuke. Perciò lo attacca, ma viene abbattuto da Tosa. Udesuke lo rianima con una generosa dose di sake e Motuemon sviene ubriaco. Mentre Toma e Udesuke stanno per andarsene, le due dame escono dal tempio. Toma si nasconde e nel medesimo istante compare il primo samurai. Somenoi e Azue fanno lo stesso errore degli uomini e assalgono i samurai convinti che sia Tosa. Quando scoprono il loro errore, si scusano e si ritirano. Iori e Genjiro tornano e trovano Motuemon e sono indispentiti dal suo comportamento da disgraziato. Li tolgono la livrea e lo lasciano tradiato per strada. Iasuke torna indietro e lascia un po' di denaro nella cintura del fratello, prima di affrettarsi dietro i propri padroni. Appena il campo è sgombro, Udesuke torna con una lettiga nella quale Motuemon viene infilato e portato via. I due samurai si avvicinano, si tolgono i cappelli e mentre posano trionfalmente rivelando la loro identità come Toma e il suo fratello Taizo. Lo Shitennoji è il più importante e il più antico tempio buddista di Osaka, fatto costruire dal principe Umayado, figlio dell'imperatore Yomei e reggente in nome della zia Suiko nel 593. È dedicato agli Shitenno, i quattro re celesti della tradizione buddista che gli aveva invocato in aiuto nella battaglia decisiva di Shigisan tra la sua fazione di fede buddista e la fazione shintoista, una specie di guerra civile religiosa. Fu costruito a pochi chilometri dall'importante santuario shinto di Sumiyoshi e la ditta incaricata, la Kongu Gumi, fu fatta arrivare addirittura dalla Corea. Tra gli altri festival vi si teneva a novembre anche lo Shitennoji Waso, una colorata parata di oltre 100 figuranti in costume d'epoca che si esibiscono in danze, canti, musiche e molto altro, al grido di Waso, una parola che in coreano significa Sto arrivando. Dico si teneva perché dal sito dell'evento leggo che è stata spostata a Naniwa Nomia. Shitenno, ovvero quattro re celesti, fa riferimento a quattro divinità che proteggono il Buddha nei quattro punti cardinali. Essi sono Bishamon o Tamonten a nord, armato di lancia o tridente. Giocho Ten a sud, armato di spada o lancia. Jikoku Ten a est, armato di spada e tridente. E Komoku Ten a ovest, con pergamena e pennello. Atto 2 Lumina di More dei fratelli Ayase, dietro il tempio Toji, alcuni mesi dopo. Entrambe le ricerche non hanno dato risultati. Genjiro ha contratto un'infezione a un occhio che lo ha reso quasi cieco. Yasuke sta devotamente cercando di far quadrare i conti. Motoemon, camuffato da massaggiatore cieco, è venuto alla casa per spiare il fratello. Ha trasferito il suo legame di fedeltà a Toma e il suo unico pensiero è vendicarsi dei suoi precedenti padroni. Viene riconosciuto dal fratello, ma arrancia una patetica storia sulle sue sfortune, che lo induce a non tradirlo. In quel momento, Yori chiama Yasuke. Preso dal panico, Yasuke nasconde il fratello in una credenza. Entrano i fratelli Ayase e Somenoi, lamentandosi della loro mancanza di successo. Quando Izutsuya Yasaburo, un vecchio servitore della famiglia, ora proprietario di un bordello, arriva con la notizia che ha scoperto il dipinto sparito in un negozio di souvenir, dove è in vendita per 200 rio. Yori parte subito per trattare il dipinto. Mentre è assente, compare la sorella di Izaburo, o Kichi, e nel corso della conversazione, suggerisce l'idea che Someno, che ricordo è la moglie di Yori, il fratello uscito, potrebbe vendere se stessa al bordello di Izaburo per 200 rio. L'accordo è presto concluso e Izaburo paga 100 rio come deposito a Genjiro. Somenoi si congeda tra le lacrime e viene portata via sulla lettica di Izaburo. Genjiro va a dormire, nascondendo il denaro sotto la sua trapunta. Yasuke fa uscire il fratello, gli dà un po' di denaro e lo prega di andarsene. Motoemon scivola via, ma appena raggiunge la Namichi, apre gli occhi, rivelando al pubblico quale canaglia sia diventato. Questo momento è l'apice della scena. Ritorna furtivamente alla casa, ma la porta è chiusa, perciò si arrampica sul tetto, in attesa di un'opportunità per entrare. Yasuke, angosciato per il fratello, cerca di rilassarsi bevendo del sake, ma non lo trova di suo gusto e alla fine si stende agitato a dormire sul suo futon. Motoemon riesce a forzare il tetto e a intruforarsi in casa. Con la massima attenzione, apre la porta della camera di Genjiro, trova il denaro e ruba la sua spada. Prova a tagliare la testa a Genjiro dormiente, ma non riesce a manovrare la spada in uno spazio tanto ristretto. Capendo che non può uccidere Genjiro comodamente e rapidamente, decide di assassinare prima Yasuke, perciò torna indietro e lo infilza al cuore. Genjiro si sveglia, ma proprio in quel momento rientra Yori. Motoemon riesce a colpire la lampada di Yori, a ferirlo alla coscia e a scappare con successo. Il Tempio Toji, che significa Tempio dell'Est, si trova a Kyoto ed è stato fondato nel 796 da Kukai, un monaco buddista del Seta Shingo, in seguito chiamato Kobo Daishi. Ed è famoso per la sua pagoda a 5 piane, alta 57 metri, detta Goju-no-to. L'attuale edificio principale, il Kondo, è stato però ricostruito sotto il patricinio dei Tokugawa nel 1486, a seguito di un incendio. Al suo interno è costruita una grande statua del Buddha della medicina, Yakushi Nyorai, e dei suoi assistenti, Niko e Gako. Assieme al Tempio Gemello, il Sanji, Tempio dell'Ovest, che attualmente non esiste più, era a guardia della città di Kyoto. Atto 3 La foresta vicino al santuario Fukushima Tenji, alcuni mesi dopo. I fratelli Ayase sono caduti così in basso che ora vivono in una miserevole capanna fatta di giunchi, in una colonia di emarginati. L'origine dei Buraku non è accertata, ma per brevità mi limito a dire che erano persone considerate impure, perché per lavoro avevano a che fare con il sangue o la morte, assolutamente abborrite dallo Shinto e anche dal buddismo, e ne facevano parte macellai e conciatori di pelli, ma anche becchini e boie. Poi si estese anche a falconieri e fabbricatori di tegole, non ho idea del perché, nonché ad altri lavori, come i fabbricanti di sandali. Questo perché, a un certo punto, i Burakumin iniziarono a dedicarsi a tale professione, e si diffuse l'idea che chi la praticava fosse anche egli un Burakumin. Stando ad alcune stime, i Burakumin non sarebbero all'origine della Yakuza, ma di sicuro entrare nei suoi ranghi è sempre stato un buon modo per sottrarsi lo stigma sociale, che è sempre stato molto forte, persino ai giorni nostri. Non di meno, molti famosi artisti di teatro provenivano proprio dalle fine dei Burakumin. Ricordo che la società giapponese è divisa in nobili samurai, contadini, artigiani e commercianti, e dai tempi di Toyotomi Hideyoshi vigeva un decreto che impediva di cambiare casta o lavoro, che veniva perciò tramadato di padre in figlio. Il che è ironico, dato che Hideyoshi stesso era partito come umile contadino e ashigaru, ed aveva scalato la gerarchia sociale fino a diventare de facto signore supremo del Giappone feudale. Torniamo all'opera. L'infezione agli occhi di Genjiro è guarita, ma Iori è irrimediabilmente storpia. Sopravvivono facendo lavoretti occasionari, normalmente fatti solo dai fuori casta. Iori siede vicino a una pozza fangosa e noleggia alti zoccoli di legno ai passanti. Udesuke, il servo di Toma, arriva sul posto travestito da fuori casta, lo riconosce e si precipita a dirlo al suo padrone. Genjiro esce in cerca di lavoro. Due personaggi comici a zonzo si fermano a parlare con Iori e cercano di sollevargli il morale eseguendo una buffa danza. Iori viene poi lasciato solo. Dall'anamici arrivano quindi Udesuke e Motuemon, che attaccano Iori, il quale si difende come meglio può. Toma compare poco dopo e nel successivo parapiglia viene ferito al posto da Iori. L'incidente getta Toma in un parossismo di rabbia e lui e i suoi scagnozzi uccidono Iori a poco a poco. Una volta che il miserabile storpio è morto, Toma esce dall'anamici con una posa diabolica. Genjiro ritorna e scopre il corpo mutilato del fratello. È il livido di dolore, ma si dà un contegno. Erige una lapide, seppellisce il fratello e dice una preghiera per la sua anima. Poi cade a terra in un fiume di lacrime. Nel mentre viene attaccato da una banda di isotici al soldo di Toma, che lo gettano nel vicino fiume, che dovrebbe essere il fiume Dojima. Scena 2 La riva opposta del fiume Genjiro esce il carpone dall'acqua, più morto che vivo, e viene a soccorso da un gettile passante che lo prende sotto le proprie cure. Non ho trovato una risposta certa per il santuario Fukushima Tenji, ma credo si tratti del santuario Fukushima Tenman a Fukushima Ku, Osaka, dedicato a Sugawara Nomichizane, divinità dello studio. Atto 4 Il bosco fuori dal villaggio di Tengajaya, vicino a Osaka. Samenoi ha concluso il periodo di servizio stabilito al quartiere dei piaceri. Lei, Genjiro e Ozue, ora moglie di Genjiro, assistiti da Koemon, un coraggioso mercante che ha avuto pietà di loro, arrivano attraverso la Namichi e spiegano che sono venuti a sapere che Toma, che ora detiene un importante ufficio alle dipendenze del governatore, deve passare attraverso Tengajaya proprio oggi. Vestiti con gli abiti bianchi dei pellegrini, essi chiedono al governatore locale, Akashi Kamo, il permesso di vendicarsi e lui glielo concede. Appaiono Toma e Motuemon. Quest'ultimo è rapidamente sopraffatto da Koemon e legato a un segnale stradale. Presumo si tratti di una pietra migliare o qualcosa del genere. Toma affronta gli altri tre che lo abbattano e lo infizzano a morte, tutti insieme. Motuemon viene slegato e prima prega abiettamente di essere risparmiato. Poi, se la mente cerca di uccidere Genjiro, ma viene schiacciato a terra e ucciso. Seppure le ricerche riportino il nome del villaggio come Tengajaya, nel caso di opere teatrali o dipinti dell'epoca, non trovo alcuna zona di Osaka che porti quel nome, mentre ne esiste una poco a sud-ovest del tempio Tenoji che si chiama Tengajaya e poco più a sud si incontra l'importante santuario uscito detto di Sumiyoshi. Perciò, presumo il posto sia geograficamente quello, ma non vi si trova molto di più che una stazione ferroviaria.